Siamo alle nostre breaking news in apertura, parliamo di aggressioni nei trasporti, presso la Cisle si è svolta una conferenza stampa, i sindacati chiedono una cabina di regia in prefettura proprio per studiare misure contro questo tipo di violenza contro gli autisti, peraltro oggi da segnalare anche un episodio di violenza nei confronti invece di un operatore sanitario, una situazione difficile sotto questo profilo. Parliamo poi di un nuovo tipo di truffa, messaggi e telefonate che arrivano segnalando delle irregolarità nei conti correnti, utilizzando un nuovo sistema anche per prendere numeri che sembrano veri, la Polizia Postale in questo caso raccomanda la massima attenzione nel nostro servizio tutto quello che c'è da fare. Finiamo con i furti al cimitero di Sante Eusebio a Cortona, il sindaco Meoni constatando che sono state portate via a docce in rame, sono stati fatti molti danni, ha girato un video chiedendo di poter prendere subito quelli che ha definito giustamente in questo caso, visti i danni e i problemi mascalzoni. Queste le nostre breaking news e grazie per essere stati con noi in questo breve spazio di informazione. Arrivederci.